Dodicesima edizione del Festival della Salute di Monte Catini Terme, presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze, è in programma dal 27 al 29 settembre alle Terme Tettuccio. Oltre 50 convegni, 25 tematiche diverse e più di 30 associazioni identico, involte per offrire momenti di divulgazione medico-scientifica e di prevenzione per i corretti stili di vita. La Regione Toscana sarà presente con uno stand ricco di novità. La Regione Toscana avrà un suo spazio e un proprio stand dove ci sarà, questa è un po' la novità, anche il centro di ascolto che normalmente noi abbiamo presso la direzione che presiedo e che darà informazioni, potrà dare informazioni sui percorsi oncologici, sul gap, su tutta una serie di attività che noi facciamo come assessorato. Allo stand della Toscana poi anche tutte le informazioni sull'infermiere di famiglia e sui percorsi nascita. Il programma prevede anche momenti ludici di sensibilizzazione alla donazione del sangue, come nel caso della Cartoon School, insieme a mostre e iniziative sportive con un tema centrale. Avremo al centro come focus fondamentale la prevenzione, quindi la prevenzione rivolta in primis ai ragazzi delle scuole, venerdì avremo migliaia di ragazzi che parteciperanno a più di 20 appuntamenti ai loro dedicati e più in generale comunque non solo i ragazzi ma le famiglie, quindi c'è un programma confessionato proprio per trasmettere elementi legati alla prevenzione in salute. Il Festival della Salute è un evento di grande rilievo per la Toscana e la scelta della sede termale, ha detto l'assessore Fratoni, presente al festival insieme all'assessore Saccardi, va in questo senso. Non solo la location è di bellezza straordinaria e tutto quello che serve a valorizzarla è ben fatto, ma c'è anche un messaggio che nasce dal binomio cura, prevenzione, efficacia dell'acqua termale sul quale la regione toscana ha sempre basato molto.